La certificazione Military Grade applicata da ASUS su alcuni notebook garantisce che questi siano in grado di soddisfare esigenti standard di resistenza. I prodotti certificati Military Grade affrontano con facilità vibrazioni, urti e cadute e sono pronti per sopportare condizioni ambientali e temperature estreme. Non hanno nessun problema di funzionamento anche in situazioni di temperature particolarmente alte o basse. I modelli certificati Military Grade sopportano l'esposizione ad alte temperature fino a 48 gradi centigradi per tre giorni consecutivi di uso o al contrario a basse temperature fino a meno 32 gradi centigradi. Inoltre questa certificazione garantisce anche il perfetto funzionamento in altissima quota a livelli addirittura superiori alla vetta del monte bianco.